Guardiamo! 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 Grazie a tutti. Chiudi, chiudila! Chiudi la presa! Va bene, Nicolás. Sì, 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 sì! Non tirarti, Nicolás! Aè, bella! Su, su, Nicolás! Dai, Marco! Su, su! Chiudila! Le corde! Arbitro, le corde! E, stop! Vai adesso! Stop! Due all'altro. Grazie. Allora, siamo. Quattro... Prima dei tre, altri quattro. Dai, Nicolás! Grazie. 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 Grazie.